amici di quarta parete sono qui nel foyer ognuna saletta anzi del teatro antigone qui in zona testaccio e sono in compagnia di analisa peruzzi buonasera analisa che domani debutterà qui all'antigone con un testo che si chiama roma a modo mio musica e testa e testa originale di carmine capreta con le pose originale di nello garro e sefano ambrosi allora analisa un omaggio a roma un omaggio a roma moderna perché roma negli ultimi anni purtroppo e per fortuna è cambiata e quindi io ho voluto dare una vedere se meglio in peggio certe volte in meglio certe volte in peggio diciamo che ecco quello che ho voluto il mio contributo è proprio far capire insomma che comunque c'è una città che vive perché io la vivo tutti i giorni questa città quindi da donna con gli occhi di una donna ho voluto dare il mio contributo proprio bello ecco perché poi parlare di immondizia o parlare di altre cose lo fanno in tanti io invece voglio ho voluto ricatturare la bellezza di questa città perché con tutte le sue contraddizioni tutte le sue contraddizioni che sono veramente di tanti anni fa allora questo spettacolo naturalmente sarà diciamo un po con un corollario di canzoni e di poesie no quindi ci saranno dei musicisti che andiamo a elencare quindi antonio ponzo alla chitarra carlo annibali al basso sandro bernacchia alle tastiere e valte spera la batteria ci sono tutti 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 assolutamente tutti e questi testi i testi sono di carmine caprera che mi ha voluto veramente diciamo è tutto inedito ci sarà qualche omaggio a qualche canzone romana che però non dell'epoca cioè non ho voluto riproporre le cose che già un po che si sono già sentite esattamente tipo il barcollo che con tutto il rispetto una canzone meravigliosa però ho voluto appunto dare una una sorta di modernità esattamente storia e canzoni bisogna essere coerenti insomma assolutamente sì quindi canzoni poesie che declinerai te esatto che reciterò io che sono di nello garro e di stefano ambrosi che sono due due ci vuoi fare ti ricordi un piccolo accenno di una poesia è una poesia molto bella sul tevere in cui praticamente c'è questa me praticamente che sto su pontesisto e vedo una roma che non c'è più c'è questa donna su pontesisto che vede appunto una roma sparita quindi se la immagine a un certo punto viene risvegliata da una persona che dice o signor sta attenta perché cadite sotto quindi c'è questo acquarello bellissimo insomma di questa poesia bene allora analisa peruzzi domani teatro antigone quindi domani è domenica domani ore 21 e domenica ore 18 ore 18 teatro antigone via merico vespucci roma modo mio da un'idea di analisa peruzzi musica e test originale di carmine caprera pose originale di nello garro e sefano ambrosi con il supporto musicale di antonio ponzo la chitarra carlo nebbagli al basso sandro bernacchia le tassiere e valte spera alla batteria analisa allora tanti auguri questa saremo insomma speriamo che tanta gente venga a sentire questa roma a modo tuo con la mia con i miei occhi a modo mio e a questo punto ci lasciamo con viva roma sempre viva roma scontentare qualcun altro assolutamente viva roma sempre e manteniamo la viva questa nostra città perché se lo merita se lo merita grazie analisa in bocca al lupo